Una tappa fondamentale ed anche, lo dico, molta soddisfazione perché diventare allenatore della città per il percorso che ho fatto in questi anni è molto bene e diventare allenatore della Costituzione è sempre stato un mio desiderio. Mi chiederebbe un motivo perché ho allenato con i sci in una categoria inferiore e quando leggevo gli articoli della squadra, nella mia squadra che allenava in quadrata, mi piaceva sempre guardare la costituzione e oggi diventare allenatore, credetemi, è un motivo di grande soddisfazione, tantissima. E quindi sono molto molto felice. Grazie.